A tutte le donne, soprattutto a quelle sopra i quadri. E tenerezze dietro un muro d'ansia, ma sanno sempre dire un no deciso. Una me la ricordo più di tutte, che strano è proprio quella che non c'è. Manca una luce sola questa notte, però la dita che gran cosa è. Grazie.